Anza, Varese, 27 di, amava il calcio, ma non ne parlavamo molto perché io tifo Juventus e lui tifava Inter, non so cosa dire, era un ragazzo solare. Sono le parole di uno zio di Daniele Bellardinelli, l'ultras 35enne, morto travolto da un sub nella zona dove ieri sono andati in scena scontri fra tifosi nerazzurri e napoletani. Bellardinelli, sottoposto ad Aspo nel 2007, a quanto emerso abitava nella zona di Morazzone, in provincia di Varese. Ci incontravamo ogni tanto perché tutti e due lavoravamo nell'edilizia, ha proseguito lo zio, non so cosa sia successo, ho saputo la notizia dal telegiornale. Bellardinelli, si legge su siti svizzeri, era socio di una ditta di pavimentisti e piastrellisti con sede nel canton Ticino. Campione di arti marziali, Bellardinelli era un atleta della Fight Academy di Morazzone, con cui tre anni fa aveva vinto diverse gare a Cremona.